Il Consiglio regionale delle Marche ha presentato i quaderni del Consiglio in voce. C'era una volta un castello, quaderno numero 146, concorso letterario regionale un territorio da fiaba, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado della Regione Marche, anno scolastico 2013-2014. A questo quaderno in voce hanno collaborato Voci Narranti Paola Giorgi Maurizia Gregori Rosetta Martellini Cristina Gregori Post-produzione audio Riccardo Vitali Alessandro Bisonà Luca Balducci Ottimizzazione e coordinamento Federica Maurizzi Musiche Kevin MacLeod www.incompetent.filmmusic.io Titoli brani in ordine di utilizzo Ciri Monday Fig Left Reg Aiden Agenda Fluffing a Duck Friendly Day Investigation Happy Boy and Team Royal Banana Sneaky Snitch Amazing Grace 2011 Entrolli Teddy Bear Wals Organizzazione Generale Mediadux SRLS Al prossimo quaderno del Consiglio in voce Ciao! Un bel Un bel Un bel Un bel Un bel Un bel Grazie.